Un no secco da parte della Giunta Comunale di Chieti alla realizzazione e gestione di un impianto di messa in riserva dei rifiuti urbani e speciali e non pericolosi. Per questa struttura, Formula Ambiente, la società che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ha avanzato richiesta di autorizzazione regionale. Ma il sindaco Ferrara e la Giunta non ci stanno. L'area è quella dell'ex rimessa Filoviaria in località Santa Filomena di proprietà comunale, oggi affittata all'azienda, in spazi attualmente destinati a parcheggi e aria di manovra. Partiamo dal fatto che la richiesta di autorizzazione a progettare e gestire un'area di messa in riserva dei rifiuti urbani da parte di Formula Ambiente avrebbe quantomeno dovuto essere indirizzata al comune che è proprietaria dell'area, mentre Formula Ambiente è solo affittuaria. Mentre Formula Ambiente ha pensato bene di girare la richiesta direttamente alla regione e questo è un primo vulnus. Altra questione prosegue il sindaco alla tutela dei cittadini e della zona in genere. Ma fondamentalmente il diniego della Giunta è legato alla consapevolezza di un aggravio del disagio igienico ambientale su un'area della nostra città già penalizzata e fortemente oberata dal problema. Basti pensare che i cittadini di Via per Popoli quasi quotidianamente ci chiamano per la puzza, i rumori, la pericolosità del passaggio delle decine di camion che portano rifiuti sia da fuori che da Chieti alla Deco. Ferrara si rivolge alla regione. Spero che la regione comprenda le ragioni del nostro diniego e soprattutto bisogna tenere conto che a breve l'AGIR, c'è l'agenzia regionale per la gestione e la programmazione dei rifiuti urbani che andrà a regime, dovrà ovviamente prendersi in carico tutti questi problemi e quindi anche questa richiesta da parte di Formula Ambiente ci appare veramente intempestiva. Grazie. 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 Grazie.